Pescara ospita Italia Gioca, che è una manifestazione nazionale nata dall'incontro delle esperienze di tante associazioni che a livello locale nella nostra bell'Italia organizzano i giochi di piazza, i giochi di una volta, i giochi delle tradizioni. A Pescara ospiteremo 16 squadre provenienti da 14 regioni italiane e si giocherà dal 5 al 7 luglio ricordando le tradizioni abruzzesi. Infatti tutti i giochi che sono stati pensati sia per le semifinali del 6 sia per la finale del 7 sono stati pensati ricordando le tradizioni abruzzesi quelle che sono le caratteristiche del nostro bel Abruzzo. La scelta di Pescara perché? Pescara si è candidata ad ospitare la quintedizione perché pensiamo che sia bello far conoscere Pescara e il suo territorio e tutto l'Abruzzo in generale a tutta l'Italia. Quindi vogliamo promuovere attraverso l'attività sportiva, attraverso i giochi, anche il nostro territorio. È proprio per questo motivo che sarà presente anche un villaggio di eccellenze in cui abbiamo invitato gli operatori locali, i produttori locali a presentare quindi come una vetrina, grande vetrina nazionale, i loro prodotti perché noi teniamo al nostro Abruzzo e alla nostra Pescara.